Grazie a tutti. 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 Il brano che andiamo ad ascoltare. Grazie a tutti. 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 tutti i sogni. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e... Grazie a tutti. 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 che... Grazie a tutti. e... e... che... e... e... che... e... e... più... ci... che... ... ... ... ...... dire... ...... ...... ...... ... ... ...... ... ...... 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 ... ...... ... ...... ... ...... ...... ... ... ...... ... ... ... ...... ...... ...... preziosi che noi abbiamo, che però nascondono le nostre ricchezze, le nostre risorse. Un buon consiglio che do a tutti, facciamo questo percorso solo per stare meglio. Grazie Lucia, grazie Isabella, grazie Paolo per le vostre testimonianze. Potete, come scegliete, potete accomodarvi, rimanere. Noi siamo giunti ai ringraziamenti di chiusura perché da un lato abbiamo già visto come ringraziare la rete, in particolare ad esempio per il sostegno alla Regione del Veneto, la Diocesi di Vittorio Veneto e Banca Prealpi San Biagio. Abbiamo la necessità di ringraziare per 30 fruttiferi anni, sicuramente nuovamente, come all'inizio, in un cerchio quasi che si chiude, i consulenti tutte e tutti. Quindi nuovamente grazie a voi per quanto fatto e quanto farete. E grazie anche a chi al consultorio di fatto si affida, perché quando si incontrano vite, molto ci hanno detto anche gli ospiti, gli interventi, le musiche e le canzoni di Erika, che a breve sentiremo nuovamente, quando si incontrano delle vite si crea comunque una sinergia, che stasera possiamo proprio dire essere stata ed essere potenzialmente anche per il futuro costruttiva. Vi lascio agli ultimi interventi di Erika Boschiero, che ringrazio nuovamente perché abbiamo colto questa armonia lungo tutta la serata, grazie per i tanti interventi. Adesso dico anche i nomi dei brani, perché al centro li abbiamo colti magari da quelli che sono i ritornelli, ma di fatto ora ascoltiamo Gli alberi hanno grandi orecchie e respira, a conclusione di questo momento insieme. Giusto una notizia, un'informazione logistica, a seguire si terrà un momento conviviale nella hall del seminario. Buon ascolto innanzitutto, grazie ancora per la vostra attenzione. Grazie. Allora ne approfitto anch'io una cosa logistica totalmente disinteressata, se qualcuno di voi volesse portarsi a casa la mia musica ci sono i miei dischi in fondo. No, invece volevo farvi, c'è un piccolo scoop di cui voglio rendervi, no, insomma che voglio dirvi e raccontarvi è che io insomma sono immersa a Bagnomaria in questa realtà da un bel po' di anni, perché mio papà ha fatto il corso, tutto, è consulente, qui ha organizzato questo evento, mia mamma, eppure io 15 anni fa ho fatto i primi due anni con Lucia Berta, la dottoressa Berta di consulenza, quindi ve lo consiglio anch'io, perché effettivamente mi ha fatto molto bene, ecco pubblicità, questo poi il cachet lo maggioriamo dopo. Vi saluto con queste due canzoni, avete capito che hanno a che fare con gli alberi, perché gli alberi per me da sempre sono maestri di ascolto, di cura, di presa in carico, di attesa, di pazienza, quindi gli alberi hanno grandi orecchie e poi Respira, che è una canzone d'amore che un albero canta a un essere umano, nonostante tutto quello che stiamo combinando. Gli alberi hanno grandi orecchie, orecchie per sentire, la neve silenziosa al giorno di Natale, il bacio sussurrato quando è primavera, il sole rosso a sera, il sole rosso a sera. Gli alberi hanno grandi orecchie, orecchie per sentire, il pianto dei bambini prima del temporale, quello degli animali prima del terremoto, e quello dei soldati prima dell'assalto, e quello dei soldati prima dell'assalto. E capiscono prima degli uomini, quando gli uomini stanno per cambiare, Allora muovono il respiro alle radici, ed in silenzio stanno ad aspettare che arrivi la bufera, che passi il temporale, che arrivi finalmente il tempo di cambiare. Gli alberi hanno grandi orecchie, orecchie per sentire, l'ultimo canto delle foglie che vanno a cadere, il pianto delle madri che stanno a guardare, dalle finestre a sera, dalle finestre a sera. E capiscono prima degli uomini, quando gli uomini stanno per cambiare, Allora muovono il respiro alle radici, ed in silenzio stanno ad aspettare che arrivi la bufera, che passi il temporale, che arrivi finalmente il tempo di cambiare. Gli alberi hanno grandi orecchie, orecchie per sentire, per trattenere il tempo e poi lasciarlo andare, di quattro mesi in quattro stanno a ricordare, per poi ricominciare, per poi ricominciare. Scosta le mie foglie come fossero capelli, di un amato e con gli uccelli tra le foglie canterò. Dammi le tue mani, fanne trama coi miei rami, lega un filo a un desiderio, e adesso non pensarci più. che stai con me vicino a me, respira, respira. e stai con me vicino a me, respira, respira. Poggia il tronco al tronco, non temere la tempesta, nella notte sono forte, fa titana dentro me. Il tuo sangue è linfa, la mia linfa, le tue vene, siamo soli, non conviene star lontani, come sei. e stai con me vicino a me, respira, respira. e stai con me vicino a me, e stai con me vicino a me, respira, respira, respira. e stai con me vicino a me, a pieni polmoni e stai con me vicino a me, respira, respira, respira. e stai con me vicino a me, respira, respira. e stai con me vicino a me, respira, respira, respira. Grazie per avermi voluta qui con voi. Grazie, grazie Erika, grazie a tutti nuovamente. Mi riferiscono a esserci dei pensieri per chi è intervenuto nel corso dell'incontro, quindi fermi soprattutto coloro che sono intervenuti. Prego Luigi, li chiamiamo come preferite. Sì, è un po' più autorevole sul palco, dai. Bene, prego, vi lascio il microfono però Luigi, questo è il bello della diretta, ha incontro finito. Tanto grazie a tutti quelli che sono stati qui presenti e tutte le persone che sono intervenute, vi ringrazio tantissimo. È una festa, è un compleanno per il nostro consultorio e anzi approfitto del fatto che diciamo che è il trentesimo compleanno per ringraziare in modo particolare Mara. Sotto avete visto un grande 30 fatto tutto a mano con i volti probabilmente di tutti i consulenti e delle persone che sono passate, che poi avete visto anche sulle slide precedenti. E' merito della nostra consulente familiare Mara Cattai. Spero di non dimenticare i passaggi, però chiamerei, abbiamo un pensiero floreale semplice ma ricco di vita per l'assessore Laura Ceccarini, che compie anche gli anni, l'ho saputo adesso, quindi buon compleanno. Buon compleanno, dai tu. Grazie davvero. Per me è una novità questa cosa delle foto. La gentilissima che ringrazio Sonia Brescancin. Grazie della presenza, so che ha sempre tanti impegni, ma ringrazio proprio per la disponibilità. Lucia, la carissima Lucia, facciamo anche Isabella. Non vorrei dimenticare qualcuno con un'intenzione. Era per figure femminili? Sì, sì. Va bene. Ma abbiamo anche qualcosa per i signori. No, qualcosa. Carissime, rappresentiamo un po' una cosa bella quella che avete fatto e che ci avete detto. Aspetta. Mi permesso. Prendi questa sera. Grazie, grazie. E un'altra. Grazie. La grazia, la grazia della musica che ci ha accompagnato questa sera. Grazie, grazie mille Erika. Grazie, grazie davvero. Io penso quanto mai è riuscito questo mese. Grazie. Non possiamo dimenticare la nostra Anna, ovviamente. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie infinite. Grazie per fare una foto. Però prima di chiamare i signori, grazie ancora, prima di chiamare i signori permettetemi un piccolo fuori programma. Marina ovviamente non se l'aspetta, è la nostra coordinatrice, ma anche se li ha consegnati è giusto che uno sia per lei. E Nadia, che è la colonna portante della segreteria. Fatevi vedere. Tutti voi meritereste un riconoscimento e a me spiace tantissimo non essere presente per tutti. Però Nadia e Marina. Chi è passato in consultorio sa che Nadia è una colonna portante, sempre presente e senza di lei tante cose non potrebbero davvero esserci. Chiamerei padre Alfredo. Facciamo una foto di gruppo, afro-gruppo. Sì, sì. Facciamo una foto e poi vi lasciamo andare. Buona serata. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione!